Se era un cavallo di spade, si, ma se era un cavallo di coppia Allora, allo paraporti ci sto io. Chi ero? Chi ero stai io? Mi è pittorio, ma sai che che sei io. 20 minuti, però non chiude 20 minuti. Vira, c'è un pittorio, c'è un po' di tappa. Sta bene? Sta bene? E' un po' di tappa Proprio diametro! Mi è questo! C'è un po' di tappa E' un po' di tappa Ma San Michele ha scattato Ah, ma non è capito ta' su ora Si, se l'ho trovato. Ma non c'è l'acqua, non c'è la comincia E' un po' di tappa c'era, nutella, torta, pasticciotti la pasticceria è stata lì allora, che cominciamo a portare la torta pasticciotti? e Idio ha visto? e in che lato si trova? io non mi sto a tutta lì dopo l'ho detto all'unità l'allumina è fatto si, l'ha dato una buona ha fatto il portaccio di pasticciotti eh, cavalla cavalli tutto dopo avvio la tua pasticciotti la pasticciotti